205esimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, un momento di festa, di consegna, di onoreficenze ma anche di consuntivo. Sì, è un momento di festa sicuramente, l'arma con le sue 5.500 stazioni sul territorio nazionale riesce a garantire quella polizia di prossimità che è racchiusa nell'espressione arma della gente. Quindi un ruolo sociale di polizia e anche, come ha detto lei, un anno per tirare le somme. Quest'anno è stato per noi un anno particolarmente importante perché oltre Matera, capitale europea della cultura 2019, che ci ha visto impegnati in numerose manifestazioni ed eventi, è anche un anno che ha dato grandissimi risultati dal punto di vista operativo. Abbiamo raddoppiato gli arresti rispetto all'anno scorso, quindi siamo a 230 arresti in un anno e più di 100 nei primi sei mesi. Questo ha portato un beneficio perché c'è stato un calo dei furti di quasi 50% nei primi cinque mesi dell'anno e un calo degli 80% degli incendi sulla costa ionica. Criminalità sempre più specializzata nei reati? Sì, l'abbiamo visto proprio stanotte che abbiamo arrestato una banda dedita ai furti di rame. Ormai la criminalità si è specializzata. Ci sono bande specializzate nei furti d'auto, alcune nei furti di appartamento, alcune nei furti di rame. Purtroppo è difficile l'azione di contrasto ma con impegno e perspicacia si riesce ad ottenere dei buoni risultati.